. Soleil Stasi esce allo scoperto con Marco Cartasegna? Ecco il post su Instagram che ha indignato i fan di Luca Onestini foto, video. . Se Soleil e Marco Cartasegna è un binomio oramai passato di moda, Soleil e Marco Cartasegna è un accoppiata che tira parecchio, almeno sul web, nel bene e nel male. . 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 Il tuo nato Antonella. Stati indossando i suoi soldi invece ha replicato un'altra utente e ancora leggiamo sei emersa grazie a Luca. Tu questo piano diabolico lo avevi molto prima. E sono stracerta che non eri manco innamorata di lui. . Insomma, Soleil e Marco Cartasegna sembrano destinati a viversi il loro amore e tra le polemiche, Luca almeno può contare su un esercito di ammiratrici che lo appoggiano e lo stimano per la reazione avuta quando lei lo ha lasciato senza neanche guardarlo negli occhi. . . .